Come vede la Camera di Commercio un progetto del genere? La Camera di Commercio ovviamente è ben lieta di ospitare eventi come questi di oggi e porto i saluti anche del Presidente Prete che ci teneva in modo particolare ad essere presente oggi ma purtroppo è fuori per altri impegni. Noi come CNA ovviamente siamo ultracontenti di questo perché è da una vita che cerchiamo di far emergere le eccellenze del nostro territorio che credo siano tante e soprattutto sono secondo noi imprese di piccole e medie entità. E avere delle banche che oramai in particolare le BCC dobbiamo dire che da sempre sono state più vicine alle nostre aziende crediamo che sia un qualcosa da portare avanti e da spingere fino a quando è il nostro possibile. Quindi un progetto del genere per il sostegno del territorio è un progetto valido che può dare sia la spinta che poi lo sprono a migliorarsi? Assolutamente sì, immaginiamo la tecnologia, l'innovazione tecnologica, addirittura formare il personale, le risorse umane, insomma poi avere un faro da parte di Simbola che è ovviamente un fiore all'occhiello potrebbe essere veramente un volano importante per il nostro territorio. Grazie. 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 Grazie.